L'opposizione di centrodestra fa il punto della situazione a metà mandato nel comune di Bagni di Lucca e per farlo invita i vertici di Forza Italia, il senatore Massimo Mallegni e il consigliere regionale Maurizio Marchetti ad un incontro pubblico presso il Bar Italia a Ponte a Serraglio. I consiglieri del gruppo Futuro per Bagni di Lucca, Laura Lucchesi e Claudio Gemignani hanno presentato una pubblicazione che raccoglie nel dettaglio il loro operato di questi due anni. Decine di interpellanze, richieste formali e segnalazioni spesso pervenute proprio dagli stessi cittadini. L'incontro ovviamente è stato anche l'occasione per fare il punto della situazione sulle elezioni regionali. Poche settimane fa un gruppo di sostenitori di Mallegni aveva lanciato l'ex sindaco di Pietrasanta come possibile candidato alla presidenza del centrodestra. In Toscana noi crediamo come Forza Italia di avere le carte in regola per poter esprimere il candidato e di poter anche vincere le elezioni. La Toscana è una regione tipo l'Emilia, forse un pochino più complicata e bisogna trovare un candidato che venga dal mondo della pubblica amministrazione, dell'impresa, che abbia un rapporto moderato col territorio. Moderato non vuol dire mollo, ma vuol dire determinato, ma ovviamente con dei valori e dei principi che non sono sicuramente quelli estremisti né da una parte né dall'altra. Maurizio Marchetti, pur ammettendo che il centrodestra naviga ancora in alto mare, ci dà un indizio più concreto. In questo momento voglio dire che c'è un clima di incertezza più che altro negli altri partiti, però indubbiamente io credo che per esempio le iniziali, dico soltanto le iniziali perché di più non posso, le iniziali MM potrebbero essere quelle che vanno nella direzione giusta.